Nei forni dovete finire. Farei montagne di crani e i primi sarebbero quelli dei sindacalisti. Sono questi i commenti scritti in un italiano improbabile e postati ieri da un utente Facebook al post della segretaria CGL della Spezia, Lara Ghiglione, che ha annunciato un esposto collettivo contro gli attacchi neofascisti ad Ampi e CGL. Noi abbiamo fatto un esposto collettivo insieme a tutte le forze che si dichiarano antifasciste, quindi Ampi, Arci, partiti di centrosinistra e ci piacerebbe molto che anche i partiti di centrodestra e le istituzioni rispetto a questo dicessero qualcosa, perché la violenza e queste forme di richiamo a ideologie che la nostra Costituzione respinge devono essere duramente condannate da tutti a 360 gradi. L'esposto segue infatti lo striscione che era stato appeso nei giorni scorsi alla Spezia contro l'Associazione Nazionale Partigiani. Firmato da lotta studentesca, una formazione vicina a Forza Nuova, invitava l'Ampi a non rompere e a tornare sulle montagne tra i pastori. Lo stesso messaggio denigratorio era apparso questa settimana anche nel ponente Ligure. Un gesto condannato da molti esponenti politici e sindacali e anche dal ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha parlato di un ennesimo inquietante episodio di ispirazione fascista nella nostra provincia. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini esprime solidarietà a Lara Ghiglione, prima sui social, poi attraverso una nota ufficiale del Comune. Trovo vergognosi gli insulti e le minacce via social e non solo che si sono verificati negli ultimi giorni nella nostra città, ha detto riferendosi sia allo striscione di stampo fascista contro l'Ampi sia alle minacce contro Ghiglione. La Costituzione è il nostro faro, ha aggiunto il sindaco, richiamando alla costruzione di una città che ripudi la violenza. L'esposto, che sarà presentato nei prossimi giorni, sarà firmato anche dal presidente dell'Ampi, dal PD, Rifondazione, Partito Comunista, Sinistra Italiana, Possibile, Leali, Rete a Sinistra, MDP, Arci. Episodi inquietanti che si ripetono, come ha ricordato il Comitato Unitario della Resistenza, in una città e in una provincia medagliate per il merito civile e militare. Eppure, nonostante la storia di questo territorio, sembra che questi segnali pericolosi siano considerati da molti solo il gesto folle di singoli. Prima le svastiche disegnate sulle sedi della CGL e del PD, poi il saluto romano con tanto di coltello durante una cerimonia lo scorso 25 aprile. Ora, lo striscione contro i partigiani e le minacce al sindacato.